salve a tutti amici del canale e benvenuti in questo nuovo video molto veloce in realtà è una continuazione del primo video di customizzazione dei piatti by ed custom symbols quindi senza dilungarmi troppo nella spiegazione voglio appunto ringraziare thomas per aver lavorato in maniera accedere ai nuovi piatti nuovi ma vecchi ho preso dei vecchi diciamo diril ho fatto modificare dei piatti a uso sulla prove ho fatto creare nuovi suoni quindi in questo video vedrete appunto suonato da lui nel suo studio il risultato di questa modifica abbiamo modificato un ride da 20 della serie ice un crash 17 della serie amer xl vecchi piatti della ufip e vecchi piatti trovati in giro sparsi regalati insomma abbiamo arricchito da parte di effetti ringrazio ancora thomas per il lavoro svolto e adesso vi lascio alla sua clip dove prova i piatti fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.